In merito agli ultimi avvenimenti riguardanti la sicurezza, mi riferisco ai diffugi atti vandalici e premettendo che questi atti vandalici sono frutto di una scarsità di senso civico e di una poca attenzione da parte di alcune famiglie verso i propri figli, noi stiamo comunque mettendo in campo tutta una serie di iniziative che a breve porteranno a attenzionare tutta una serie di luoghi. Questo ovviamente lo faremo prima come Polizia Locale, abbiamo chiesto anche un supporto alla Prefettura dove a breve vi sarà un incontro e chiederemo anche il supporto ovviamente di Polizie e Carabinieri per fare delle azioni sostanzialmente coordinate per ristabilire quel senso e quella convivenza civile che ci vuole in città. Grazie.